Da un mese niente più aborti all'ospedale di Foligno. Le dimissioni di uno dei due ginecologi non obiettori e la contemporanea assenza per malattia del collega hanno di fatto interrotto il servizio, come denunciato dalla CGL. Si è creato un vuoto per le donne che vogliono autodeterminare le proprie scelte. La sospensione della prestazione, assicurano però dalla direzione dell'ospedale, è solo provvisoria. Stiamo intervenendo, cercando di far spostare i ginecologi disponibili qui a Foligno nella sede specifica dove si è creata la necessità e questo è in corso, quindi nel giro di qualche giorno dovremmo essere in grado di risolvere questo tipo di criticità. Ma è possibile che il problema si ripresenti anche in futuro. Il 65% dei ginecologi nelle aziende ospedaliere Umbre è obiettori di coscienza. Un fenomeno in aumento anche a livello nazionale. La strada intrapresa dalla regione Lazio di bandire concorsi per soli medici non obiettori apre un ulteriore fronte di discussione. Se noi facessimo un bando per non obiettori, quindi per un ginecologo che dà la sua disponibilità allo svolgimento di questa attività e poi dovesse effettuare l'obiezione di coscienza, può essere licenziato? La risposta è meno scontata di quanto sembri, con il rischio di interminabili contenziosi che potrebbero aggravare le situazioni di paralisi.